carissimi amici di grand prix tv buonasera bentornati anzi dal vostro del montinari sui nostri canali pronti a vivere l'ennesima la terra la seconda diretta di giornata la terza gara di giornata con i ragazzi delle crono scalate del team crono factor live pronti a vivere un altro appuntamento all'insegna del motorsport seppur diciamo sotto una veste diversa in compagnia questa volta con me abbiamo alessandro fior ciao ale buonasera ciao daniel sono tornato mi sono preso un po di pausa diciamo dalle dirette adesso sono tornato carico per questa serata con le crono scalate quarto appuntamento quarta tappa del cvm 2020 da catania catania etna questa sera esatto dunque è un appuntamento alle che ormai sta diventando una sorta di abitue per noi di grand prix tv qua la domenica sera prima di iniziare la settimana giusto per scaricare la tensione di tutti gli appuntamenti ma pur sempre rimanendo concentrati abbiamo visto l'appuntamento di qualche settimana fa dove grandi nomi altisonanti erano andati un attimino a perdere il controllo di quella che era la situazione ma poi sono usciti diciamo gli outsider questa sera questa volta ci sarà un diverso tipo di pista e ora sicuramente dovremo andare a vedere quelle che saranno le prerogative con i piloti che piano piano già stanno iniziando a mettersi sulla linea di partenza vediamo Paolo Bonsignore dietro di noi allora mi sposto subito nel pieno della diretta nella live per proprio perché c'è Paolo Bonsignore con la sua 500 pronta a partire andiamo a vedere l'interno della sua vettura sempre bellissima questa Abarth SS in una in un tracciato che questa volta sembra è partire diciamo da una fase di una fase abitata ecco vediamo le case inizia dal da un tratto cittadino oggi cercheremo di inventarci nuovi nomi a nuove curve quindi Ale stai pronto perché è assolutamente della birra potrebbe essere tanto ringraziamo boss fiore che si è abbonato al nostro canale con tweets prime bravo boss così non avrai né le pubblicità né non dovrei aspettare 24 ore per il ricaricamento della live ma attenzione perché siamo pronti vediamo buon signore fermo a un filino forse di lag vediamo la sua vettura c'è un filino di lag per tutti i piloti questa sera c'è un filino di lag per tutti i piloti questa sera perché diciamo che c'è un un server abbastanza pieno però intanto è quello che è partito il nostro buon Paolo e noi andiamo subito con le telecamere a capire quella che è la pista di stasera che parte appunto da Catania e dovrebbe andare a districarsi lungo tutto quella che è la salita del del letto però Ale mi confermi che c'è ancora un po di lag più che altro credo sia buon signore che lagga tanto perché io il server lo vedo bene a livello di ping quindi credo che buon signore abbia qualche problemino di troppo che ne so ecco adesso magari si ripresa un attimo forse qualche problema si sa che ci sono temporali in giro per lo stivale questa sera quindi potrebbe essere anche questo il motivo comunque buon signore sta spingendo a breve andremo su Torrisi che era in griglia di partenza dopo un buon signore laggante non ci dà la possibilità di capire bene il suo stile di guida però adesso guarderemo un attimino anche che cosa andrà a regalarci Giovanni Torrisi per capire quelle che sono le prerogative del tracciato anche perché così facendo buon signore sicuramente non ci sta regalando quella che potrebbe essere una una prestazione che potremmo andare a valutare tanto bene perché va un attimino a ondeggiare lungo il tracciato peccato perché sicuramente si ha tanta difficoltà a livello di di lag dovuto appunto al ai temporali che ci sono che ci sono in giro intanto è partito Torrisi partito Torrisi subito pronti via e anche lui vedo un po laggante secondo me Ale è un po tutto il server si non capisco perché comunque il ping da parte del server lo vedo buono non capisco il motivo di questo di tutto questo lag diventa un po più difficile anche per noi poter parlare della loro prestazione però faremo l'impossibile con Giovanni Torrisi che sta spingendo molto in questo momento a parte di quale sto guardando anche il ping dei piloti stessi non mi sembra che abbiano un ping altissimo quindi secondo me è proprio una questione di server anche della chat i nostri ragazzi del tricono factor live ci dicono che molti potrebbero avere problemi questa sera speriamo speriamo insomma che la situazione vada a migliorare si però noi comunque rimaniamo sulle telecamere con Torrisi perché sta affrontando il tratto iniziale Ale che mi è sembrato di calpire essere pronti via subito caratterizzato da curve molto ampie curve molto veloci dove si va totalmente d'appoggio esatto esatto dove si va in appoggio ma intanto mi sposto vediamo se Francesco Melina è già partito no è ancora fermo allora continuiamo a restare su Torrisi peccato vederle un po' laggare in questo modo ci dicono che il percorso è un po' pesantuccio quindi laggano i loro computer causa la pesantezza della grafica e comunque un percorso che è molto bello da vedere un percorso interessante tra queste curve di questa salita siciliana si stavo guardando che il versante del vulcano mi verrebbe da chiamare così è una è una conformazione di tracciato che va ad alternare tratti con una come si dice una una carreggiata ampia e una carreggiata stretta carreggiata stretta che si che va ad assumersi nel momento in cui le curve vanno a prendere un una connotazione medio lenta e quindi i piloti sono costretti ad andare sotto la sesta marcia sesta marcia che 9 mila giri ovviamente quindi tanto alti che vengono tenuti praticamente lungo tutto l'arco della lungo tutto l'arco della dei tratti veloci perché questa pista è molto veloce intanto ci spostiamo su Melina che dovrebbe essere partito eccolo infatti la numero 13 del del buon Francesco parte adesso e si trova nel nel tratto iniziale subito dopo qualche curva quando ancora la la civiltà l'urbanesimo chiamiamolo così del della compagine siciliana della civiltà siciliana è presente ai bordi delle strade poi da lì si andrà verso quelle che sono tra virgolette le campagne il lag rimane ancora molto alto quindi diventa molto molto difficile andare anche a guardare la prestazione e noi ogni tanto proprio io anzi almeno per quanto mi riguarda ogni tanto torno indietro di un pezzo però sembra che sia proprio un problema di tracciato però vabbè noi noi continuiamo noi teniamo duro anche perché sicuramente i piloti si staranno impegnando anch'essi per far sì che la loro prestazione sia abbastanza interessante da guardare anche che per esempio Paolo Bonsignor ancora deve finire il suo la sua crono scalata la sua salita e di conseguenza non abbiamo ancora un tempo di riferimento per capire quanto realmente ci vuole per fare per fare questa salita salita che ovviamente una volta usciti dal dal tratto urbano dal tratto cittadino va a districarsi in un tratto totalmente intanto eccolo che arriva Bonsignor è arrivato adesso in un tratto totalmente campagnolo è partito Caradini sì è partito Caradini quindi possiamo andare anche su di lui che è il primo della seconda categoria di macchine ecco Caradini per il momento già lo vedo meglio probabilmente il server con qualche vettura in meno in pista è più fluido e adesso possiamo vedere la vettura di Caradini muoversi diciamo in un modo realistico e quindi speriamo che da questo punto di vista da qua in poi il server possa andare bene e allora subito noi cosa facciamo Ale con le nostre telecamere F6 per andare on board con il pilota numero 9 e ci godiamo un attimo la guida anche dall'interno per capire un po' la prestazione che può regalarci questa seconda categoria di crono scalate che si va ad accingere verso quello che è appunto il tratto campagnolo con il tratto cittadino che va a finire è molto molto particolare questo tipo di tracciato Ale perché guardiamolo, osserviamolo, studiamolo è ondulato, è caratteristico di indossi che vanno a mettere sotto pressione quella che è la geometria della sospensione e tanti tanti muri, tantissimi muri molto vicini che nascondono le curve dei muretti continui, è praticamente un tunnel tra i muretti in questo tracciato per cui i piloti devono essere veramente molto bravi a non sbagliare nulla perché appena vai a colpire qualcosa rischi di danneggiare la vettura e quindi perdere tantissimo assolutamente sì anche perché poi l'abbiamo visto negli episodi precedenti, nelle puntate precedenti o nelle gare precedenti, chiamatelo un po' come volete, che nel momento in cui si sbaglia è molto molto difficile andare poi a recuperare l'errore intanto è partito anche Corrado Blasi quindi possiamo andare a seguire anche lui come tempi per capire anche un po' come si comporterà la sua vettura io Ale vado ad attivarmi lo standing perché se no non riesco a guardare i tempi giusto per andare anche un po' a definire quelle che sono per ora le posizioni abbiamo Torrisi in prima posizione 4.47 che ha distaccato di ben 16-17 secondi circa Bonsignore che ha concluso in 5 minuti e 1 ecco forse anche il lag ha un attimo vanificato la prestazione perché sicuramente anche i piloti hanno visto qualcosa qualche problema potrebbe averglielo creato i piloti diciamo che non essendo una tracciata una pista dove sono tutti in simultanea dove corrono in simultanea teoricamente comunque grossi problemi non dovrebbe averglieli dati ma si sa che qualcosina potrebbe sempre danneggiare ecco è meglio non averlo che averlo il lag in ogni caso eh sì assolutamente sì poi bisogna anche vedere il tipo di prestazione che hanno i pc stessi perché giustamente poi anche l'hardware fa la sua parte però infatti in questo momento infatti i ragazzi del Team Crono Factor Live ci dicono nel caso in cui un pilota un buon pc effettivamente laga meno scatta meno del caso anche di Corrado Blasi che lo vediamo abbastanza fluido saluto anche Alessio Buffon che ci saluta buonasera Alessio anche a te e niente siamo pronti a continuare a seguire con Davide Telluto che a breve partirà se non è già partito andiamo un attimo a controllare no è ancora fermo in griglia quindi restiamo ancora qualche secondo con Corrado Blasi sì sì ne stiamo ancora con Corrado perché la sua Peugeot sta spingendo forte sta andando ad affrontare molto bene quelle che sono le curve che compongono questa salita mi piace lo stile di guida del buon Corrado che adesso arriva alla curva tricolore dove nel momento in cui si va a staccare questa scalata questa sorta di bus stop chicane che si può chiamare praticamente è una C dove è completamente delimitata da muri di gomme colorate in tricolore scendiamo proviamo ad andare su Araniti che dovrebbe partire a breve strano che non sia ancora partito e vediamo se la sua vettura è pronta se sta alzando sui giri no è ancora a motore totalmente spento allora torniamo su Talluto esatto torniamo su Talluto per godere ancora della sua guida e magari i ragazzi della direzione gara hanno un attimino messo un freno alla partenza per far sì che magari ognuno possa partire e godere di una prestazione leggermente diversa intanto Melina va a chiudere 4.55 più lento rispetto a Torrisi quindi si piazza in seconda posizione tra Torrisi appunto e Bonsignore Talluto invece sta arrivando nel tratto montuoso dove iniziano a intravedersi le rocce tra le delimitazioni della carreggiata e quindi adesso arriva nel quello che dovrebbe essere il tratto finale il terzo settore tra virgolette con la Peugeot che canta forte e sembra avere anche una buona coppia in spinta in questa salita Araniti è ancora fermo strano vedere ancora fermo Araniti allora restiamo su Talluto che ormai arriva verso la fine di questo suo primo tentativo ricordiamo a tutti i nostri spettatori specialmente quelli che non ci hanno seguito nelle scorse dirette che i piloti hanno tre tentative a disposizione tre cronoscalate di cui si fa una media delle due migliori per poi decretare il vincitore di tappa diciamo esatto esattamente esattamente poi ovviamente la classifica ecco qua è stato Talluto che sta affrontando poi la famosissima curva tricolore che ho chiamato ed è posso dire che è forse una delle curve più belle che abbia mai visto in una cronoscalata perché nelle cronoscalate siamo abituati a vedere curve di appoggio o tornantini o cose del genere intanto è partito Araniti io sì confermo è partito Araniti lo stiamo vedendo lui anche bello fluido ha colpito il muretto ma per un suo errore non per una lagata quindi diciamo che per fortuna i piloti con le Peugeot hanno un PC sotto hanno una macchina che rende meglio più performante rispetto ai ragazzi del 500 molto probabilmente i ragazzi del team Chrono Factor Live hanno trovato il bandolo della matassa per far sì che i piloti possano laggare un po' meno nel momento in cui appunto vanno ad effettuare la loro prova lanciata i ragazzi del team Chrono Factor Live che tra l'altro si sono iscritti sono abbonati a Twitch Prime per addirittura due mesi Ale grazie mille ragazzi gli abbonamenti al nostro canale sono molto importanti per darci la possibilità di migliorare sempre più e quindi grazie ancora volevo segnalarti anche un'altra cosa essendo il tracciato molto lungo ed essendo un tracciato fatto a mano diciamo dai ragazzi del team Chrono Factor su una piattaforma che non è stata studiata per quello ecco il motivo dei lag da parte di qualche pilota che non ha un pc all'altezza rispetto agli altri e quindi ci sta diciamo hanno già fatto i salti mortali per riuscire a portare a casa un risultato del genere e quindi già da qui dovrebbero partire dei complimenti perché nel momento in cui si arriva a questo tipo di risultato è chapeau non si può pretendere altro anzi avercene persone che riescono a fare questo tipo di cose tanto è partito Michele Petrolo altro pilota molto veloce anche lui con la Peugeot quinta marcia piena adesso in questa salita diciamo che dal punto di vista tecnico vedo una puntata un tracciato meno difficile rispetto a quello dello scorso appuntamento meno tornanti lenti da affrontare a marce basse ma però in questo caso in questo appuntamento non devono sbagliare niente perché quando è più facile tra virgolette allora subentra la pulizia della guida cioè qui pochi millesimi pochi decimi a curva possono fare la differenza sì infatti già lo guardiamo lì davanti quanto tra virgolette siano stretti i tempi anche se ci sono due secondi di differenza tra Brasi e Talluto che vanno a inseguire quella che dovrebbe essere la leader della testa della classifica con ovviamente ancora una gran parte dei piloti che devono prendere il via la loro crono scalata e questo forse è proprio il trucco di quelle tappe che vanno a caratterizzarsi su una distribuzione del tracciato in modalità piuttosto veloce dove appunto subentra la pulizia e dove lasciare decimi per strada è molto è molto molto diciamo importante non farlo ecco mi manca il termine quindi ci sono girato intorno esatto esatto tanto eccolo Argentieri partito esattamente in questo momento l'ultimo con la vettura della sua classe vedremo anche lui con questa bella livrea con la scritta ringhio del posteriore lui che cercherà sicuramente di ringhiare contro questo tracciato nel tentativo appunto di andare a fare un primo passaggio che ricordiamo tutti i piloti tendono a fare in modalità safe diciamo non rischiano più di tanto per appunto avere un riferimento su cui poi andare a lavorare nei due tentativi successivi è un po' come se fossero tante qualifiche nel momento in cui si va a fare una crono scalata perché i piloti giustamente nel momento in cui sono in una parte inedita della loro prestazione vanno ad avere quella quel crono safe che appunto va a crearsi nella prima delle tre manche previste da regolamento e poi seconda e terza manche si spinge magari concedendosi al massimo un errore ecco l'errore per esempio adesso Argentieri lo ha commesso andando leggermente a toccare il muro un paio di volte Ale quindi deve stare un po' attento perché magari potrebbe perdere qualche riferimento lui che sulla fiancata sul portellone posteriore della sua vettura ha tatuato ringhio il cane più bello del mondo che era bene di Rin Tin Tin per citarne uno sta spingendo veramente tanto forte e sta rischiando anche molte volte di andare a muro perché lo vediamo nelle staccate quando arriva a semi lungo per l'altro un dettaglio strano dopo che è andato a colpire il lato della pista e ha perso tanta velocità ha preferito sfrizionare invece che cambiare marcia e lì credo che abbia perso ancora qualcosa forse forse è andato un attimo a confondere i pedali non lo so non lo so però una situazione strana diciamo di solita saluto anche Cigi Giuseppe che ci ha raggiunto ciao Giuseppe esatto e anche Giuseppe Nonna ci stanno raggiungendo in tante persone questa sera quindi salutiamole perché giustamente fanno parte anche loro della nostra diretta e non perdiamole di vista perché giustamente nel momento in cui avranno una richiesta per noi noi saremo pronti ad esaudirla intanto Argentieri arriva nella C tricolore nella curva tricolore andando a serpenteggiare a strisciare tra questo destra-sinistra e destra un po' come se fosse come se fossero le chicane del circuito di Le Mans che vanno a fermare la velocità stratosferica delle vetture soprattutto nella figura dell'LMP1 tanto Daniel è partito Malariti l'unico con la vettura della sua classe ma è partito tra l'altro con una foga con una cattiveria veramente incredibile veramente unica gli altri non sono stati così aggressivi nelle curve guarda ecco qua sbaglia però sbaglia di brutto in questo caso va a colpire il lato della pista e questa la pagherà la pagherà la pagherà molto cara perché abbiamo visto quanto quanta velocità di punta perdono le vetture nel momento in cui vanno a colpire il muro e giustamente con delle pareti così alte e così vicine è difficile diciamo non incappare nell'errore intanto lì davanti la classifica continua a vedere Blasi davanti con Petrolo dietro ma a Talluto con Talluto dietro a Blasi ma Petrolo si piazza tra i due mettendo tra sé e Blasi quel paio di decimini quei sei decimini circa che portano Talluto in terza posizione poi abbiamo il 37 di Araniti il 47 di Torrisi e il 455 di Melina Bonsignore è l'unico diciamo che fino adesso ha sofferto un po' Caradini e Argentieri devono ancora arrivare con Manariti che ovviamente lo stiamo guardando adesso lo stiamo aspettando adesso con questa livrea rosso nera che sul cofano motore è molto bella si diciamo che non sono i colori preferiti da me ma sono i cucini i cucini milanisti quindi può andare bene dai Manariti che sta arrivando verso il termine della sua si pianta un po' di difficoltà qua si pianta e allora dopo Manariti Enzo Moroso vediamo se è già partito si è già partito anche lui e quindi ci spostiamo su Enzo Moroso che nella prima parte del tracciato altissimi giri della sua vettura guarda anche qua bello questo controsterzo l'ha fatta veramente la pennellata questa curva Enzo Moroso mamma mia e sta continuando a spingere molto forte mamma mia io intanto per appunto dare un po' di seguito alla skin di Manariti volevo andare a citare il capitano dell'AC Milan Romagnoli che oggi pomeriggio ha corso nel campionato SRO che siamo andati a commentare io e Van Nesta ha fatto una prestazione veramente molto molto buona partendo dietro e arrivando tra i primi venti è stato veramente particolare vederlo correre su Lamborghini poi e beh sì sicuramente Sara è stato bravo io non ho avuto modo di di vederla di commentarla per una volta tanto mi sono fatto da parte e comunque dai sono stato contento che avete avuto modo di commentarla voi due e divertirvi a seguirla insieme sì sì siamo stati bravi abbiamo fatto le nostre brutte figure detto questo torniamo a a commentare la prestazione di Enzo Amoroso che sta veramente volando con una macchina che è attaccatissima all'asfalto addirittura a 135 km ad affrontare le curve veramente alto poi ora almeno per adesso in sesta marcia a 203 km di punta arriva adesso alla chicane tricolore deve praticamente fermare la macchina passa da 195 a 35 km in prima marcia poi seconda terza quarta il punto rosso sull'abitacolo a richiamare il pilota a dire cambia perché il motore non ce la fa più sta urlando così tanto che tra poco perderà le corde vocali che compongono i pistoni che vanno a comprimersi lungo tutta la camera di combustione di nuovo sinistra destra sinistra anzi no scusate destra sinistra destra vabbè insomma a specchio guardatela come volete o non ho più la patente ma ho tanta passione nell'andarvi a raccontare la prestazione del buon Enzo che sta correndo veloce addirittura riesce a controllare quello che è il punto di corda delle ultime curve che compongono questa questa crono scalata un'altra barriera tricolore e questa volta destra sinistra destra ed è giusta questa volta l'ho detta giusta e non me la perdo e poi verso la chiusura verso le rocce e gli alberi che vanno a coprire i raggi di sole che illuminano questa pista e a tagliare il traguardo sinistra ora poi ad allungare sempre in quarta marcia quindi veramente veloce molto a posto con la macchina leggermente largo qui ma riesce a chiudere l'apex in richiamo poi verso sinistra quindi sacrifica leggermente consapevole della conformazione dell'Etna Catania 20-20 circuit che è sotto i nostri occhi questa sera ancora tanta pista da correre ovviamente per lui però la fine molto molto vicina adesso di sinistra destra di nuovo per un momento la stava perdendo ma i suoi freni hanno risposto molto bene montagne rocce montuose bianche intorno a lui per non fargli vedere niente soltanto la strada come se fosse praticamente un tracciato distopico fatto soltanto di quello che regolarmente va a rappresentare l'ordine la precisione e la bellezza il tutto ciò che è ordinato in una terra che ovviamente noi sappiamo apprezzare tantissimo la Sicilia Sicilia che tra l'altro è lo stesso cognome del pilota che oggi in SRO era in prima posizione e l'avevamo appunto citato insieme a Divan Nesta l'albergo la salita dell'albergo sulla sinistra abbiamo il cartello dell'albergo appunto muri destra sinistra e l'arrivo per quanto riguarda Enza Amoroso per la sua prima delle tre prestazioni previste sì prima prestazione che lo vede in prima posizione 4 minuti 14 secondi 419 millesimi manca solo uno manca Salvo Pantano che si è lanciato con questa sua auto bianchi bellissimo bellissimo il contagiri che chiama gli 11.000 giri di questo motore urlante di questa auto bianchi targata Abarth bellissima questa auto bianchi targata Abarth che sta correndo sta salendo lungo questa questa salita qui tanto per fare anche gli onori della del tracciato italiano quindi un bel connubio e io ho un problema mi si è buggato il contagilometri è fermo in quinta marcia a 32 km orari vabbè l'importante è che riesce ancora a seguire il tutto ci dicono nella chat che Salvo Pantano è il creatore di questa di questa questo tracciato e di tanti altri quindi un plauso ancora in più per lui che è anche un modder oltre che un pilota magari chissà avrà qualche decimino in più dal fatto che conosce ogni centimetro di questa pista staremo a vedere quando arriverà in fondo probabilmente sì mamma mia tutto è traverso la numero 84 regala spettacole pennellate la tiene lì ma che controllo di Salvo Pantano che addirittura richiamo riesce così a conoscere a confermare che conosce benissimo questa pista Ale che libidine veramente veramente una libidine per i nostri occhi questo questo salvo il ragazzo il nostro salvo Pantano che sta spingendo guarda guarda anche adesso che controllo sullo sterzo si vede che ha creato questa pista ragazzi si vede che è veramente a suo agio io me la sono vista a un board perché me ne sto guardando a un board i piloti per capire un po' lo stile di guida e praticamente era lì che giocava con il volante col mignolino alzato in stile Adrian Sutil eh sì eccolo andiamo a vedere il suo tempo non compare ancora il suo tempo sarà eccolo qua 4 minuti 14 secondi 419 millesimi praticamente lascia 18 secondi alla seconda posizione di Corrado Blasi incredibile mamma mia mamma mia che super 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 tempo del buon salvo che si piazza lì in prima posizione mettendo un po' da parte quelli che erano diciamo gli avversari e quindi ora i piloti vanno un po' a riposarsi a prendere il fiato per quella che sarà poi la seconda salita la seconda manche ecco Ale esatto noi ci riposizioniamo anche per quanto riguarda le nostre telecamere ci rimettiamo su Paolo Bonsignore voi non potete ancora vedere perché attendiamo la sua che si vada a posizionare nella griglia di partenza correttamente salvatore scire dalla chat ci dice ma che tempone ed effettivamente ha tirato giù un tempo incredibile per la sua ed era la prima manche ragazzi la manche dove uno cerca di essere più tranquillo vedremo cosa combinerà nelle prossime esatto esatto intanto il ping è andato un po' a sforare quello che è inteso come diciamo numero normale sale a tre cifre e supera le centinaia adesso sta scendendo è tornato il problema dei ragazzi con le 500 vedete che si muovono in questo modo è che purtroppo loro hanno un pc una piattaforma meno performante rispetto ai ragazzi che li seguiranno e quindi come abbiamo visto nel primo tentativo anche in questo caso credo che Bonsignore Torisi e Melina avranno questo problema di ghosting della vettura che si muove e se questi sono i risultati del buon salvo che ha creato questa bellissima questa bellissima pista io sicuramente mi entrerò in contatto con lui perché voglio portare su assetto corsa i miei i miei progetti perché ne ho veramente tanti ho tanti tracciati inventati in stile Herman Tilke che disegna qualcosa se qualcuno di voi ha mai visto i progetti di Herman Tilke ma sono molto interessanti io ne ho fatti così tanti ho una cartella piena e il mio desiderio più grande è quello di portarli su assetto io credo comunque che meglio di Tilke qualsiasi sia capace di fare perché il Tilke non parlo della bravura parlo proprio dei progetti in sé per quanto diciamo per quanto sono minuziosi a livello di architettura del tracciato e sono molto molto belle è partito buon signore esatto e come dicevamo purtroppo il suo PC non riesce a darci la fluidità della vettura che speravamo dopo i ragazzi delle 500 hanno questo questo problema sappiamo per fortuna comunque che da Caradini in poi se ricordo bene tutto va fluido tutto va correttamente più che altro Ale quello che volevo farti notare a livello di prestazioni da parte delle macchine c'è una differenza di ben 60 km orari tra la categoria più bassa e la categoria più alta ricordiamo anche le categorie quelle che sono se non ricordo male avevamo le 700 le 1400 le 1600 e un'altra categoria adesso non ricordo purtroppo avevo preparato il foglio qua davanti a me ma le ventole del PC me l'hanno fatto cadere dietro e quindi non lo posso prendere perché se no mi sgozzo e quindi non ci arrivo mi devi aiutare tu Ale ricordo 1500 adesso vorrei fare una brutta figura anche io intanto Giovanni Torrisi è ancora fermo quindi torniamo su un buon signore si come si dice Salvatore della chat sono i ragazzi delle 700 ad avere problemi purtroppo quindi per buon signore Torrisi e Melina non avranno la possibilità di dare una live fluida dipende da noi e quindi magari nelle prossime appuntamente avranno modo di andare a rifinire il tracciato rifinire le curve per dare meno pesantezza al tutto e quindi far girare bene anche sui PC datati di questi ragazzi ma questo è un lavoro minuzioso che bisogna mettersi lì e fare con molta molta calma sappiamo per esempio nella figura specifica di Andrea Pedulla che è non solo fondatore del portale di Ciresis online che non si vede sul panorama degli sport da parecchio perché si è un po' privatizzato e nonché anche modder di auto quanto lui sia perennemente al lavoro nell'andare sempre ad ottimizzare le macchine io che per esempio mi informo sempre perché ovviamente oltre ad essere un grande appassionato di tanti tipologie di macchine sono anche un grande amico del buon Andrea lui è sempre lì che sforna che ottimizza che prova non solo le auto cioè è un complubio nel simulatore devi riuscire a trovare delle auto leggere e anche una pista leggera esatto perché come avevo già detto questi tracciati che per loro natura sono molto lunghi purtroppo la pesantezza c'è quindi hai bisogno di computer un po' più performanti rispetto ai circuiti classici ecco ringrazio Salvatore che ci ci dà un'indicazione riguardo ai tipi di vettura oltre alle 700 ci sono le N14 le A14 L1 1150 e A16 esatto esatto più che altro adesso stavo guardando anche oltre a Bonsignore dovrebbe essere partito Torrisi eccolo qua possiamo già andarlo a guardare con le nostre telecamere che si è già lanciato in quello che è il tratto centrale e si trova con la numero 100 nella nella sezione dedicata alle rocce sembra un po' un museo questa cronoscalata perché abbiamo la sezione cittadina la sezione di campagna la sezione delle rocce la sezione del tricolore e la sezione delle delle pareti di montagna che vanno a concludere la la pista e questo è sempre un po' bello andare un po' a dare nomi a cose che non hanno un nome perché così diventa anche più divertente tanto è partito Melina anche lui i grossi problemi ma dal prossimo da Caradini ricordo che la situazione è migliorata quindi l'ultimo dei piloti 700 è al via per la sua seconda presi o secondo tentativo vedremo se andranno a migliorare rispetto al tempo che hanno siglato in precedenza e vedremo cosa riusciranno a fare nel loro ultimo tentativo anche questa 500 SS è molto bella con questo trio di colori grigio nero e rosso che vanno ad accoppiarsi oserei dire in modo molto molto bello regalandoci anche quella che è una livrea molto sobria ma piena di sponsor al giusto peso diciamo sì intanto Johnny stacchino vado a rispondere un attimo a Johnny stacchino che ci dice che lag simile per la connessione non per il pc no purtroppo nel tanto nell'errore di Francesco Melina che si è bloccato purtroppo non è la connessione perché il server pinga 40 quindi è proprio una questione di pesantezza in base ai pc dei ragazzi almeno così io credo perché il di lag non ce n'è pinghiamo 41 quindi è un ottimo ping esatto esatto e poi torniamo torniamo con le telecamere poi così sul tracciato perché adesso è partito è partito Caradini e quindi già la situazione sembra essere più tranquilla il problema è solo per i primi tre esatto col pilota Peugeot arancione azzurro che si lancia e vediamo se riesce a migliorare il suo tempo interessante capire come andrà in questo caso Caradini ad effettuare il suo tentativo nel primo l'abbiamo visto abbastanza tranquillo non l'ho visto esagerare troppo in realtà nel primo tentativo l'unico che mi ha fatto fatto paura diciamo è Salvo Pantano che non ha sbagliato nulla e ha tirato della madonna veramente sì ha veramente fatto una prestazione maiuscola e vediamo se riuscirà a ripetersi nelle prossime nelle prossime due nei prossimi due tentativi intanto Caradini trova davanti sì esatto la 500 di Melina è anche difficile questa situazione perché non può capire Caradini dove Melina si trova per fortuna l'ha sorpassato senza senza il contatto in questo ghosting che va a colpire la vettura di Melina e questo diventa molto difficile anche da andare a gestire perché tu sei concentrato sai che non troverai nessuno e non non è una variabile che tu prendi in considerazione però in questo momento Melina potrebbe essere raggiunto anche da Corrado Blasi Corrado Blasi che dovrebbe essere già partito sì allora andiamo su Corrado Blasi esatto si trova adesso nei tratti centrali della parte cittadina dovrebbe tra un po' uscire dalla città con la gente che va man mano a diventare sempre meno e vediamo se il pilota con la livrea che Alessandro Fior no non è lui però questa è quella bella non è quella dei cugini milanisti esatto questa è quella bella grigio e con le bandiere a scacchi con i fari oscurati che piace tanto che piace tanto a me bella sportiveggiante se appunto Corrado Blasi troverà Francesco Melina davanti a sé durante il suo durante la sua salita non credo sai credo che Melina abbia avuto modo di arrivare in fondo ma mai dire mai il tracciato comunque è lungo e quindi potrebbe anche raggiungerlo magari nelle ultime intanto Torrisi 4.42 Bonsignore 4.46 Bonsignore si migliora era 5.01 il suo tempo prima adesso si è migliorato 4.42 Torrisi 4.47 adesso 4.42 quindi buono vediamo gli altri dovrebbero arrivare appunto Melina molto con molta molta calma Caradini dovrà far segnare un tempo molto interessante se questi sono i presupposti che le 700 già iniziano a far segnare dei tempi tre quarti sul sul ritardo del minuto del minuto 4 i tempi delle altre vetture dovrebbero essere molto più bassi un attimo su Taluto per vedere se riesco a prendere la sua partenza vedo che sta sgasando in questo momento alza leggermente eccolo qua siamo riusciti a prenderlo nella sua partenza la partenza di Davide Taluto la partenza buona mi sembra forse ha fatto leggermente spinare un po' troppo le gomme ma niente di grave beh su Stato Corsa diciamo che è praticamente normale questo tipo di partenza perché non so perché ma forse è un po' una caratteristica del gioco è impossibile partire senza far fumare le gomme però a parte questo il pilota con la livrea dedicata al giornale del tornante sul posteriore va anche a recitare sportefoto.it va adesso a salire nel tratto iniziale con la numero 20 e si vedrà anche il suo tipo di prestazione per capire anche quanto realmente ha la possibilità di andare ad impensierire quei piloti là davanti intanto chiude Caradini 4.31 un tempo molto simile a quello della manche precedente sto aspettando Melina per capire quanto andrà a far segnare però secondo me sarà molto difficile vederla arrivare perché dovrebbe essere già arrivato eh sì esatto quindi no è ancora in pista sta ancora correndo addirittura sì sì sta ancora correndo e si trova molto lento sì si trova ora nel tratto nel tratto finale circa deve ancora raggiungere le montagne diciamo nella parte relativa agli alberi tanto taluto invece ancora nella prima fase di tracciato prima fase molto veloce tra l'altro devo dire che la velocità media qui è veramente molto alta quinta marcia guardate quanto va a spingere questi piccoli piccoli cambiamenti di direzione che comunque non ti fanno rallentare più di tanto non si rallenta più di tanto si mantiene una velocità media piuttosto alta non ci si perde di concentrazione perché con una velocità così ampia le vetture devono essere molto 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 ben assestate a terra arriva adesso taluto alla prima delle tre chicane del tricolore appunto quella verde per iniziare poi ci sarà la bianca e poi la rossa per andare a inaugurare quello che è il tratto centrale per far sì che poi la sua parte cronometrica vada a fermarsi intanto deve arrivare anche a momenti il buon Blasi ecco qua la chicane bianca quella più veloce quella più prestazionale che taluto praticamente ha effettuato come se fosse un rettilineo ha appoggiato la sua vettura di più aggressivo rispetto alla in maniera dolce a quelle che era la conformazione del sinistra destra sinistra di questa di questa chicane e qua sicuramente ha guadagnato tanto 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 e qui è importante perché è uno dei pochi punti dove devono rallentare tanto i piloti e quindi è lì che possono guadagnare parecchio rispetto ai loro tempi precedenti mi sono spostato intanto su Araniti anche lui nella fase iniziale del suo giro questa vettura di giallo vestita con lo sponsor sportfoto.it del posteriore aspettando quella di ringhio io perché quella che merita merita di più secondo me però vabbè scherzi scherzi a parte con il il pilota numero 17 che sta iniziando anzi ormai è nel pieno della della sua prestazione arriverà alla fine del tratto veloce con una libertà totale che ovviamente è caratterizzata dalla crono scalata però ricordiamolo prima Caradine aveva avuto problemi con Melina si era trovata in mezzo al tracciato ecco Ale nel momento in cui capita una cosa del del genere quanto è difficile gestire una variabile di questo tipo è molto non è per niente semplice ma per esempio Araniti in questo caso dimostra di avere veramente una vettura ben assestata tra l'altro ci scrive dalla chat il team Crono Factor Live che Araniti corre anche nel reale ed effettivamente i ragazzi che corrono nel reale si vede che hanno un'impostazione di guida leggermente diversa rispetto a chi quella possibilità non ce l'ha avuta si è un po' come quando vai al campetto da calcio che vedi chi va a scuola calcio e chi non esattamente esatto quindi chi gioca chi gioca tirando con la punta e chi gioca tirando con il collo piede Ale esatto tu sei uno di quelli che tira con la punta no 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 collo tutta la vita sempre stato forse con la punta a tre anni poi poi avevo cambiato intanto io sto guardando la prestazione di Araniti nel mentre parlavamo delle punte dei piedi di Alessandro lui ha già fatto tutte e tre le chicane tricolore e sta già arrivando al tratto finale quindi il tempo di Araniti dovrebbe essere molto 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 veloce io intanto mentre parlavi mi sono spostato comunque su Michele Petrolo per dare un po' di visibilità a tutti sarà interessante capire il tempo di Araniti perché come hai detto tu questo sembra essere un ottimo tentativo da parte sua potrebbe essere forse addirittura il migliore di tutta la sua crono scalata beh intanto per andare un attimino a ricapitolare il tempo di Caradini nonostante l'incontro fortuito con Melina fa segnare un 4.31 e mezzo che lo porta in pole position poi abbiamo Corrado Blasi che lo ha seguito subito dopo 1.34 talluto chiude a 4.35 quindi molto vicini ai piloti delle Porsche Torrisi Bonsignore e Melina vanno a spostarsi su ovviamente tempi un attimino più alti Melina va a fare un tempo oltre i 4 minuti andiamo su Petrolo sì una pizzicata in uscita lì dicevamo è importantissimo in questo tracciato essere puliti e veloci e quando vai al contatto con i muretti come è successo adesso per Michele vedete quanto ha perso ha leggermente pizzicato il muretto la vettura gli si è scomposta e ha sbagliato completamente la chicane sì vediamo anche quanto è difficile puoi mantenere il controllo di una vettura che sia sull'anteriore che sul posteriore si va ad alleggerire frenate del genere diventano difficili da controllare io torno un attimo con le telecamere sempre nell'interno di Michele Petrolo che in questo momento sta continuando a salire la chicane bianca adesso manca la chicane rossa retterino lungo per andare a raggiungere la vetta del vulcano che va un attimino a disegnare quello che è lo skyline siculo che noi italiani amiamo tanto è giusto oh io ti dico Ale in questo momento sto lodando alla Sicilia e sono salentino quindi sto proprio facendo gli onori di casa non mia però vabbè chicane rossa per andare a concludere le chicane del tricolore e poi lanciarsi verso quello che è il tratto finale l'ultimo settore con gli alberi che vanno a coprire quelli che sono i punti luminosi del tracciato e poi si va verso quello che è la la parte relativa alle montagne muro enorme e questo sarebbe bello vederlo tutto pieno di sponsor in stile Formula 1 1988 Ale dove la gente si arrampicava sui cartelloni degli sponsor per poter vedere un anfratto di tracciato e quelli erano altri tempi quando il profumo di olio ti inebriava il naso e ti faceva tornare a casa sicuramente con non qualche malattia e sicuramente coronavirus spostati torniamo invece sulla sulla prestazione di Michele Petrolo che adesso arriva nel tratto finale poi ci sposteremo su su Manariti che sicuramente è già partito eccole qua le ultime tornate per per il buon Michele che in terza marcia va ad appoggiare la sua Peugeot sempre con grande dolcezza sfruttare quel poco di fuori carreggiata che gli viene offerta ad appoggiarsi quasi sul guardrail all'ambire quel capitombolo che potrebbe andare a fare una brutta botta nelle ultime curve non ci voleva adesso a destra per andare un attimo a rallentare la pressione l'albergo sinistra la curva dell'albergo e poi si chiude terminato allora ci spostiamo su Argentieri Salvatore Argentieri altro pilota molto veloce devo dire si ritrova già tra l'altro nella fase centrale del tracciato è partito con un'attesa minore credo rispetto ai suoi avversari vediamo come va a percorrere questa ultima fase fase che forse dal punto di vista della guidabilità è la più difficile perché queste tre zone in cui una sta passando proprio ora che ti portano all'errore e l'abbiamo visto infatti questo contatto che gli farà perdere del tempo però aspettiamo la fine della crono per vedere che tempo andrà a stampare Salvatore Argentieri è difficile Ale andare a fare queste altro errore brutto questo è quasi va a girare si scompone e adesso sarà anche molto difficile andare a riprendere la macchina vediamo se riesce a ripartire torna e box torna proprio poi box torna e box e allora passiamo sulla vettura preferita da Daniel su Rocco Manariti sulla vettura milanista ma non è vero è una vettura che mi piace per i colori rosso Ferrari tutto qua e mi piace anche questo tipo di texture che c'è sul cofano motore che è stupenda penso che penso che me la tattooerò sono sincero poi Rocco mamma mia che botta stavo per dire Rocco molto aggressivo e l'aggressività in questo caso non ha pagato perché guardate ha già il volante completamente storto e credo che questo suo tentativo andrà assolutamente a vuoto eh ma vediamo anche che la vettura è completamente piegata in quelle che sono le sospensioni ecco non a caso la vettura di Manariti è proprio rossonera perché sul cruscotto c'è anche il logo del Milo da confermarcelo Manariti che però ha anche gara 1 nel suo primo tentativo abbiamo visto aver avuto la vettura danneggiata e quindi forse troppa aggressività per Rocco che così rischia veramente di fare una brutta una brutta cronoscalata complessiva questo potrebbe essere un fattore interessante perché così facendo va un attimino a influenzare e a non galvanizzare quella che poteva essere la prestazione di serata però sappiamo che è molto difficile mantenere queste vetture in pista perché ne abbiamo vista la potenza e sicuramente non è per niente facile io intanto vado a bannare Ricky Screech che dalla chat ha scritto Forza Milan sto scherzando ovviamente ma comunque restiamo ancora un po' con Rocco Manariti guardate quanta difficoltà non lo bannare perché c'ha Twitch Prime no stavo scherzando guardate comunque quanta difficoltà per Rocco stare in pista ormai fa correzioni continue è il suo tentativo ormai devo dire che è praticamente una attesa verso il termine della prestazione ci spostiamo allora su Enza Amoroso esatto andiamo su su Enza Amoroso esatto che sta andando a vivere quella che è la sua prestazione con la sua Peugeot e questa diventa tutta una una questione di velocità e lui l'abbiamo visto nella nel tentativo precedente mantenere molto bene quello che era il controllo della della vettura adesso sembra essere leggermente più scivolosa la sua Peugeot rispetto a prima è un attimino più sottosterzante ma speriamo che riesca a trovare il bandolo della matassa e a tenere perlomeno la vettura in pista come si deve andare ora verso la terza marcia verso sinistra ad allargare un po' l'ingresso e poi a stringerlo verso sinistra ecco questo è un fattore molto interessante di tutti i piloti che lo stanno facendo adesso curva dell'albergo sinistra e poi si chiude e io salto subito sul salvo pantano perché lui a muro vettura completamente ferma in pista e completamente danneggiata stava guidando molto forte lo avevo visto già in partenza e ritiro lui che è il creatore di questa mod casca in tranello proprio dalla sua creatura e quindi si va a terminare in anticipo questo secondo tentativo noi rientriamo un attimo in studio virtuale nell'attesa appunto che Paolo Bonsignore si rimetta in coda per l'ultimo il terzo tentativo di serata esattamente esattamente con questa seconda mancia che è stata leggermente più spinta con i piloti che sono riusciti a scendere un attimino di più per quanto riguarda i loro cronometrici molti più piloti sotto i 5 minuti e di conseguenza questo aiuta parecchio anche a livello di risultato Ale questo terzo tentativo è un tentativo dove molti piloti possono andare con calma e tanti invece devono necessariamente fare la prestazione tanti hanno bisogno specialmente Manariti per esempio per citarne uno hanno bisogno di fare un giro pulito una corsa pulita per poter andare a chiudere senza un tempo veramente alto perché l'ha sbagliata la prima ha sbagliato peggio la seconda nella terza deve essere assolutamente perfetto torna buonsignore in partenza con i suoi classici problemi con i problemi che attanagliano i ragazzi con le 700 questa sera motore fermo per il momento a breve lo accenderà torniamo noi intanto nella live di questa serata siciliana siamo in macchina con Paolo buonsignore a breve accendere il motore guardiamoci alla patenza allora con l'onboard per capire quando il pilota dalla vettura giallorossa Abarth SS manderà su di giri la sua macchina per andare poi a spingere eccola qua sul motore sui giri 8500 9000 limitatore al massimo proprio parte pronti via prima seconda scende fino a 7000 giri 6000 la seconda adesso terza per tornare 7000 giri sembra leggermente più a posto adesso la macchina scivola un po' di meno però vabbè speriamo in bene va adesso sinistra e poi destra ecco è sempre un raccontare di curve sinuose la crono scalata perché è un continuo andare a discendere e risalire lungo tutte quelle che sono le curvilineità della macchina ed è racconta un po' una sorta di poesia Ale che ci accompagna per circa 4-5 minuti di pura libidine e panorami che compongono solitamente le crono scalate dettaglio particolare avete visto che in partenza Paolo Bonsignore nonostante il gas a martello il gas spalancato non ha fatto scivolare le gomme dettaglio questo che è dato dal fatto che la vettura non ha molta potenza ma errore per lui grosso errore si va a piantare totalmente in pista evidentemente potrebbe riportare le box evidentemente lui ci aveva provato esatto quindi a breve dovrebbe partire Torrisi vediamo probabilmente nei due tentativi iniziali che comunque purtroppo abbiamo potuto seguire ma in un modo non perfetto ha avuto dei buoni tempi e quindi ha tentato tutto per tutto nel terzo e si sa che quando spinge al massimo l'errore è facile arriva Torrisi poi ancora Melina e poi questi questi problemi di lag spariranno esatto intanto dalla chat il malessere più totale per per l'errore di Paolo tutti molto tristi e sembra che abbia un gran seguito buon signore rispetto rispetto ai suoi amici rispetto ai suoi follower intanto ringraziamo in primis tutti i piloti che tutti i telespettatori che ci seguono che mettono il follow perché ci compaiono a schermo e ovviamente andiamo anche a ringraziare tutti coloro che fanno le sub che ci aiutano tanto tanto si ricordo a tutti che se avete Amazon Prime potete collegare Amazon Prime a Twitch e quindi iscrivervi abbonarvi al nostro canale senza pagare assolutamente nulla ma aiutandoci comunque a dare delle dirette sempre più più belle e sempre più evolute eh sì ovviamente stiamo lavorando appunto per questo stiamo oggi tra l'altro alla fine delle due ore e cinquanta di diretta con Evannesta abbiamo cercato un attimino di fare un punto della situazione che è molto interessante ad oggi Grand Prix TV sta puntando veramente tanto su quelle che sono i servizi di streaming a livello professorale quindi stiamo cercando veramente di riempire il calderone e far sì che il servizio sia offerto nel miglior modo possibile esatto esatto detto questo ci spostiamo su Melina Francesco Melina ancora fermo però sta per partire vediamo ancora vediamo se riusciamo a prendere allora la sua di partenza perché vedo già 4.000 giri del suo motore tira al massimo 9.000 a parte subito e parte devo dire bene come gli altri ragazzi dell'estizio un trucco particolare di Melina che va a mantenere i giri bassi fino a quando gli ultimi semafori diciamo non non vanno a spegnersi per lui e per poi andare ad alzare la curva dei regimi motore per spingere al massimo e staccare la frizione al via questo potrebbe essere un trucco interessante per far sì che la coppia venga distribuita al meglio lungo tutto l'asse della sua 500 Abarth SS e questo potrebbe far sì anche che il pilota riesca a gestire meglio il comportamento della sua vettura ricordiamolo hanno un battistrada piuttosto piccolo queste 500 guardiamo da fuori vediamo che le gomme sono piccoline ricordiamo per chi si fosse collegato che per i primi 4 piloti c'è questo piccolo diciamo un po' più di piccolo questo problema di lag che però poi è dovuto probabilmente al loro computer ma che da Cardini poi si va a risolvere Cardini che vediamo è ancora fermo nella linea di partenza motore basso per lui quindi torniamo ancora un attimo su Melina che è andato a sbattere Melina va all'errore sbatte contro il guardrail si gira 2-3 volte ma non incappa nella sabbia riesce a mantenere i giri alti quindi la vettura rimane accesa e riprende la via del tracciato con non qualche difficoltà ovviamente andando a sbattere più e più volte contro il muro e contro il guardrail è peccato perché così va a vanificare la sua prestazione è il secondo errore già esatto è il secondo errore che commette secondo errore perché va sbagliato anche il suo secondo tentativo ricordando che poi Blasi l'aveva raggiunto se ricordo bene era Blasi che l'aveva raggiunto rischiando tra l'altro anche il contatto con la vettura di Melina che andava po' a scomparire davanti a lui esatto esatto perché giustamente poi Caradini l'aveva raggiunto e abbiamo visto quel siparietto tra virgolette contanto cerchio da 10 ci dice il team cronofactor live dalla chat con il riferimento alle ruote piccole appunto di cui parlavamo prima ed ecco Caradini che inizia un cerchio da 10 è un portachiavi per me tenendo in considerazione il fatto che sulle invernali ho un 18 e sull'estima un 19 è partito Caradini intanto se riuscite a vedere la sua partenza non è stata buonissima come le sue precedenti però non così male dai vedremo come andrà a continuare questo ultimo tentativo questo terzo tentativo di Andrea Caradini che probabilmente adesso potrà giocarsela tutta intanto per andare un po' a distaccarci da quello che è la cronoscalata io volevo farvi notare questi ultimi 30 secondi di Alessandro Fiori che non volevo offendere ma volevo offendere nel senso che brutta partenza che ha fatto però dai non ha fatto una brutta partenza no in realtà in realtà sì ero un po' ero combattuto se capire cioè non avevo capito se l'aveva fatta buona o brutta però alla fine alla fine dei conti non era così male eh ma ci può stare dai dopo una giornata in totale relax possiamo capirti possiamo capirti poi dai da domani si torna a lavorare quindi non ti preoccupare un po' un po' per tutti detto questo adesso chiuso questo siparietto questa parentesi molto molto simpatica torniamo con le immagini sulla vettura numero 9 di Andrea Caradini che va ad affrontare il suo terzo e l'ultimo tentativo di questa cronoscalata offerta dai ragazzi del team Cronofactor Live qui alla Sicilia Etna 2 2 20 20 20 20 non 2 20 20 perché sennò siamo già negli anni del futuro prossimo con il pilota su Peugeot che sta affrontando il tratto centrale nel mentre però noi possiamo provare a spostarci su Buon Blasi Conrado Blasi che si sta avvicinando adesso alla piazzola di partenza scalda le ruote con un bel burnout molto intelligente questa 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 mossa che possiamo guardare possiamo vivere possiamo notare appunto nel momento in cui i piloti si avvicinano e questo è una cosa molto molto particolare come diciamo prima tecniche di partenza diversa per quanto riguarda i piloti c'è chi parte a giri altissimi e pronti via c'è chi parte a giri bassi e poi fa alzare i regimi motore nel momento in cui il semaforo arriva alla fine c'è chi invece fa il burnout iniziale in stile Formula E per poi partire al massimo RH positivo Corrado eh sì sì vero 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 io intanto riscatto quelli che sono i miei punti punti GPTV che poi tra l'altro GPTV con la W è illegibile quindi dovremmo sistemare Ale che servono per scrivere in chat in modo un attimino più dettagliato ovvero utilizzare quelle che magari sono delle emotiche particolari delle evidenze a livello di chat o addirittura delle richieste a noi streamer e magari anche delle citazioni per quanto riguarda i partecipanti alla chat stessa questo per farvi scoprire anche a voi telespettatori un po' come funziona Twitch visto che è un mondo alla quale stiamo approcciando un po' tutti piano piano per vivere al meglio con qualità migliore queste dirette e spero che vi stia anche piacendo il risultato perché ci stiamo investendo veramente tanti tanti fondi detto questo torniamo su Corrado Blasi che sta affrontando il tratto centrale il tratto delle rocce relativo al tratto geologico del tracciato e si porterà molto presto sulla sezione delle chicane dopo questo lungo rettilineo dove la vettura può esprimere tutti i suoi cavalli e la seconda nella seconda è arrivato primo e adesso arriva la chicane bianca molto deciso molto deciso molto aggressivo nel spostare i pesi della sua vettura nell'andare a direzionare le ruote anteriori della sua macchina ma Corrado sta spingendo molto forte lo si capisce dalla guida lo si capisce dalla pulizia lo si capisce dal silenzio che intorno a lui si è creato nell'ambiente sembra quasi che adesso alla chicane rossa le sinergie tecnico motoristiche ambientali e naturali valdano un attimo a connotarsi a membrarsi a omogenizzarsi in tutto quello che è l'ambiente della gara la concentrazione che c'è in lui il guardrail vicino quasi a andare a voler a voler a dare un bacio al suo congiunto che in questo caso rappresenta lo sportello ma no Corrado ci mette una mascherina perché giustamente vuole proteggersi da quello che potrebbe essere un contatto con le delimitazioni della carreggiata curva lunga a sinistra poi a destra a richiamare a salire ancora la prestazione del buon Blasi sta andando veramente a galvanizzarsi sicuramente anche lui dalla sua prestazione è galvanizzato per adesso nessun errore e non gliela voglia lanciare ma sta salendo verso quella che è il tratto finale i muri diventano sempre più alti gli alberi sempre di meno le rocce si fanno vedere sempre più sta quasi per chiudere in terza marcia adesso sempre tra le rocce con lo spiraglio della vetta che si avvicina e il panorama che aumenta ma lui non ha tempo di guardarlo perché deve guardare l'uscita della curva deve guardare quello che c'è dopo perché quello che sta affrontando per lui è già il passato la parete distopica la parete bianca passa adesso sinistra destra lunga ad appoggiare con la macchina che si allarga perché non riesce a mantenere il punto di corda non lo permette il telaio non lo permettono le gomme non lo permette niente l'arrivo adesso taglia il traguardo e poi leggeremo il tempo 4, 32 e 4, 48 primo di nuovo intanto sta arrivando appunto l'avete talluto alla chicano rossa si trova già mamma mia anche lui molto veloce nell'andare ad affrontare questo piccolo tratto di pista e adesso sarà tutto un fiato sospeso nel mantenere la vettura in ordine nel suo essere e vediamo come si comporterà perché è molto particolare questa parte anche lui sceglie di rimanere largo per poi stringere la macchina e l'anteriore verso quella che è la curva da sacrificare perché poi c'è il richiamo a sinistra e entra nel comune c'è il cartello marrone quello che va a delimitare i confini di un comune o un centro urbanistico turistico e adesso sta arrivando nel tratto finale dove appunto la curva dell'albergo adesso esce dal comune perché giustamente è l'altro cartello marrone per andare a delimitare la fine va ad accompagnare Davide Talluto nel tratto finale con le pareti di rocce tagliate giusto per farci passare la pista giusto per dire no qua noi esseri umani artificialmente ci costruiamo una pista e ci andiamo a correre le cronoscalate le cronoscalate che stiamo vivendo stasera grazie ai ragazzi del team Cronofactor Live che hanno realizzato anche una mod molto molto bella l'errore di Talluto adesso che va ad appoggiarsi al muro un bacino giusto per regalarci un po' di amore la curva dell'albergo destra a sinistra e chiudere la prestazione leggiamo subito il tempo e poi vediamo il risultato terza posizione 4.35 e 4.53 poco distaccato da Caradini che fa segnare 4.34 e 6 e si piazza in seconda posizione no non sono niente non sono niente Melina rimane per la seconda volta sopra i 5 minuti nella scorsa Manche 5.03 adesso e 5.07 adesso 5.03 Torrisi bravissimo 4.42 4.42 scusate si piazza in un'ottima prestazione sicuramente sarà primo del suo gruppo perché aveva fatto delle buone prestazioni anche nelle nelle prime nelle prime nei primi due tentativi quelli del gruppo delle delle Peugeot 106 invece hanno spinto veramente forte Ale si sono omogenizzati tutti praticamente sullo stesso tempo intanto Paraurten tenere leggermente segnato per Francesco Araniti che sicuramente avrà avuto a chi dire con un muro e un contatto sicuramente che c'è stato però non credo che gli abbia fatto perdere qualche qualche tipo di prestazione perché la sua vettura meno male riesce a mantenere molto bene la pista tanto basta sul posteriore e spennella in uscita dalla curva precedente e spennella ancora all'ingresso della curva successiva mamma mia lo spettacolo adesso si parla di spettacoli non più di tempi Ale libidine che sale e adesso arriva e fa segnare 4.36 e si mette alle spalle di talluto per 6 decimi si blocca completamente lì all'incrocio che sta a 6 km da Nicolosi a 12 km dal sud del monte Etna e va a riprendere la statale che lo dovrebbe portare sulla cima del del cucuzzolo della montagna mi viene da chiamare perché mi viene in mente la canzone ma in realtà tornando seri sulla cima della vetta di questa cronoscalata arriva adesso a quella che è la chicane rossa e aveva sbagliato giustamente per andare a identificare geolocalizzare il punto d'errore di Michele Petrolo sulla chicane bianca quella più veloce e quella relativamente più difficile Ale è complicato è molto complicato io intanto sono con Musa sull'asfalto con Michele Petrolo che giustamente sta andando ad affrontare i tratti conclusivi si trova in una modalità di guida mi sembra piuttosto safe non sembra quasi che non stia spingendo più di tanto perché la vettura mantiene una media di circa 90 km in 100 km 3 orari e non sta andando a e non sta andando a lanciarsi in in particolare sprint forse forse Petrolo consapevole delle sue prestazioni sta cercando anche di portare a casa un risultato che potrebbe fargli media sì sì potrebbe fargli media ma comunque non è sicuramente un buon tempo quello suo quindi curva dell'albergo eccola qua e poi va con della sua prestazione visto che siamo in un momento di stacco così di pausa leggera io giustamente prima volevo dire non il monte dell'Etna ma il vulcano dell'Etna non che poi mi venga mi venga un attimino data in chat magari qualcosa del tipo che non so la geografia non mi sembra che nessuno abbia scritto niente no ecco il tipo che ho fatto lei mi ha detto al vulcano dell'Etna ecco vedi neanche a farla apposta è giustamente che do scusa perché non sa mai che si possano sbagliare queste cose Salvatore Argentieri sta percorrendo il suo tentativo vediamo un posterore già danneggiato quindi ci siamo persi qualche contatto qualche errore con il muretto in realtà dall'onboard non sembra abbia grossi problemi con il volante quindi probabilmente non perderà così tanto ma vedremo che tempo staccherà in fondo intanto per andare anche a guardare il tempo di di Petrolo che si è piazzato con un 446261 in sesta posizione adesso siamo su appunto Salvatore Argentieri che con la sua numero 22 targata ringhio chiamerei cosa? Peugeot ringhio esatto quindi mi verrebbe da creare un nuovo modello per la casa francese però sai dare anche ai francesi l'onore di targare una macchina ringhio dopo averli dato alla Gioconda che in questi giorni è oggetto di notizie per rilanciare l'economia del paese direi proprio di no detto questo numero 22 a salire verso le pareti con i carabinieri lì pronti a guardare la vettura passare ai bordi del tracciato e ovviamente anche il pubblico che scorre con le rocce che delimitano la caraggiata di questa pista dopo la costruzione dei muri curva dell'albergo chiude Argentieri e si piazza in quinta posizione 436 e 417 e adesso il turno di Manariti attenzione perché in questo caso la vettura è perfetta non deve aver colpito purtroppo Manariti ha fatto due tentativi sia il primo che il secondo sfortunati dove ha colpito il muretto e ha fatto dei gravi danni nella vettura adesso molto più safe probabilmente nella guida e la vettura è intatta sì per adesso è tutto dritto nella 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 carrozzeria del buon Rocco che nella chicane del tricolore verde per la precisione quindi all'inizio delle tre riesce a mantenere un'ottima prestazione un'ottima compostezza nel comportamento della sua macchina che comunque rimane abbastanza nervosa in curva vediamo Ale che tende a sobalzare leggermente sul centro corpo forse forse il setup non è che è stato proprio azzeccato al massimo sì è probabile tanto ballerina la sua vettura però ricordiamo che è l'unica vettura della sua categoria quindi potrebbe essere anche proprio una questione di DNA di questa Peugeot che anche nel suono ha molta più cattiveria rispetto alle altre sì la sentiamo che è molto più rauca nel suo andare a presentare lo scarico il suono del motore di questa macchina che colpisce adesso al muro e un altro errore va a caratterizzare la prestazione del buon Rocco che adesso riprende la via del tracciato con la vettura leggermente segnata verso sinistra a salire ora con un richiamo verso destra mantiene la vettura abbastanza cucita al cordolo a discapito di altri piloti che la mantenevano leggermente più larga ora richiamo verso sinistra con il posteriore che continua a sobalzare quindi segno che molto probabilmente è una vettura molto leggera la Peugeot di Manariti e questo potrebbe essere un dato interessante anche a livello di setup e anche a livello di difficoltà di guida forse potrebbe andare a giustificare un po' gli errori del buon Rocco che chiude adesso in sesta posizione 439 886 si mette a guardia tra Argentieri e Torrisi dopo Manariti Amoroso che Amoroso credo abbia fatto un errore bello grosso perché la vettura completamente distrutta all'anteriore qualche danno anche sul posteriore e sul lato altra botta adesso volante completamente storto e quindi il suo terzo tentativo se n'è andato sì sicuramente sarà molto difficile girare però ha praticamente una guida a 90 gradi il buon Enzo che in questo momento ha un riferimento diverso a livello di geometria di sospensione e ha praticamente il dovere di mantenere la macchina in pista per quanto gli è possibile e per quanto ancora terranno le gomme perché storte così si scaldano da far paura e come dice Team Crono Factor Live della chat mamma che legnata effettivamente deve aver preso una botta veramente di livello direi sì per avere la macchina così storta bisogna veramente andare a prendere una botta forte molto probabilmente sul muro in convemenza e in questo caso il cofono motore è bello che è segnato e il bello è che io lo vedo completamente nero Ale invece da te compare ancora verniciato sì sì da me basta ancora un po' di vernice esatto esatto quindi nel tuo caso nel tuo universo è ancora piuttosto vivo invece a me è completamente segnato dalla vita sia davanti che dietro allora visto che in precedenza Salvo Pantano nel suo secondo tentativo aveva fatto un grosso errore io direi di passare su di lui visto che Amoroso comunque in questo caso non avrà modo di migliorare e goderci l'ultima l'ultima tornata l'ultimo tentativo di Salvo Pantano che nella prima prova aveva fatto un tempo incredibile nella seconda aveva sbagliato si era stampato a muro e quindi qui deve giocarsi tutto per tutto è particolare questo tipo di gare Ale quanto sia quasi comune andare a colpire il muro è un po' come sia quasi comune nelle gare diciamo di circuito finire fuori pista piuttosto che magari avere un contrattempo a livello meccanico ecco questo ci fa capire anche quanto nelle diverse categorie sia molto bello avere diciamo degli accadimenti degli eventi che magari in determinate altre categorie non ci sono esattamente si dicono della chat meno 90 ci dice che Salvo deve fare un 4-0-1 basso per essere primo al momento vedremo quindi come andrà a stampare il suo ultimo tempo lo vedo molto aggressivo comunque in linea forse con il suo primo tentativo la sua guida intanto la guida si appunto di Pantano rimane aggressiva come nei primi due tentativi un po' largo non sapevole mamma mia qua un po' largo riesce a richiamarla leggermente il sottosterzo che fa soffrire le pneumatici anteriori della sua auto bianca numero 84 che sale adesso imperterrita senza quasi avere una una difficoltà nell'affrontare queste curve la vettura della Etna Corse che giustamente corre anche in casa adesso nel suo balzo porta l'Apex ad essere largo e con la curva dell'albergo il richiamo a sinistra va a chiudere la sua prestazione fa segnare un tempo di 4 vediamo vediamo non è ancora comparso non è ancora comparso però è il primo 432 e 448 sarà da capire con questo tempo intanto torniamo allo studio virtuale sarà da capire se con questo tempo Salvo riuscirà a prendere è l'unico della sua categoria ad aver corso quindi sicuramente avrà preso il miglior tempo di giornata ma rispetto agli altri alle prossime gare alle prossime sessioni sarà da capire dove andrà a piazzarsi assolutamente si poi ovviamente adesso la direzione gara andrà a fare tutti i suoi calcoli per quanto riguarda la media di quelle che sono le prestazioni dei piloti e anche quelle che sono le eventuali penalità da assegnare però mi sembra di capire che Blasi sia il pilota che questa sera ha avuto la prestazione migliore in tutte e tre le manche credo che sia lui magari chiederemo conferma ai ragazzi per capire un po' meglio ma comunque devo dire un appuntamento che ci ha regalato delle belle delle belle emozioni un tracciato difficile devo dire per i vari piloti non come non come quello della prima gara perché in gara 1 c'è gara 1 la gara precedente volevo dire quella della scorsa di due settimane fa la difficoltà era maggiore si è visto però qui la difficoltà di oggi era nel dover non sbagliare nulla pennellando le curve facendo veramente ogni ogni piccolo cambiamento di direzione nel modo corretto si era un tracciato particolare l'abbiamo visto l'altra l'altra settimana diciamo così quanto i tornanti fossero presenti e quanto pochi fossero le le gli allunghi i tratti dove i piloti potevano dare gas a martello e spingere al massimo mentre questa volta era totalmente il contrario i piloti dovevano sempre stare con il pedale dell'acceleratore completamente visto che li hai citati prima vado a salutare le forze dell'ordine esatto presenti nella ricostruzione di questa tappa virtuale che stanno appostati vicino all'hotel Biancaneve quindi salutiamo anche l'hotel Biancaneve esatto giusto così per non farci mancare niente esatto in questo appuntamento stavo dicendo appunto questa mappa già anche dalla sua conformazione proprio in sé a guardarla proprio come districazione del tracciato è molto lunga è molto sottile tende ad essere molto molto veloce nel suo essere affrontata appunto l'abbiamo visto dai piloti soprattutto dal pilota dell'Etna Corsa quanto quanto si spinge rispetto alla gara precedente dove le curve la facevano da Pradova e a breve li sentiremo siamo in attesa che arrivino i piloti per sentire le loro sensazioni a caldo su questa tappa su questo appuntamento allora Ale io intanto però vado ad alleggerire un po' il carico sul mio computer che oggi ha lavorato oggi gli ha dato oggi il tuo oggi ha dato sì esatto oggi veramente ha dato intanto ci ha raggiunto Salvo Pantano ce l'abbiamo qua con noi ciao Salvo ce l'abbiamo ma non lo sentiamo ce l'abbiamo ma non lo sentiamo vediamo se se si rianimerà il nostro Salvo nel frattempo comunque Daniel sì devo dire che è stata una una bella prestazione da parte di quasi tutti i piloti ma mi aspettavo meno errori tanti hanno sbagliato nei loro tentativi specialmente non nell'ultimo che è quello più scontato ma in quelli prima sì diciamo che sono stati tratti un po' in inganno dal fattore velocità che gli ha fatto un attimino abbassare quella che è la la concentrazione la lucidità che solitamente vanno a mettere in pista e quindi succede eh sì succede è molto difficile bella ma difficile intanto vedo anche Enzo Naxos qui nella la chat vocale con noi non so se ci senti Enzo buonasera a tutti buonasera a tutti ragazzi sono Enzo Amoroso buonasera sì 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 ben trovati ben trovati ciao ciao Enzo ciao buonasera buonasera ragazzi abbiamo anche Salvo perfetto si è svegliato anche Salvo perfetto allora li abbiamo tutti e due io partirei da Salvo che lo sento un pochettino più lontano Salvo buonasera ciao buonasera ragazzi dunque a caldo bella ma difficile questa questa salita dell'Etna sì sì bella molto abbastanza impegnativa per quanto riguarda i tratti in velocità infatti ho avuto un piccolissimo incidente dove ho distrutto la mia macchina nella seconda macchina piccolissima e lì praticamente è facile fare un piccolo sbaglio arrivare lungo e poi succede purtroppo quello che è successo stasera ma al di là di questo tutto sommato mi sono divertito è sempre piacere salire qui e poi soprattutto per il fatto che è una mia creazione quindi fa ancora più piacere stare a dareggiare in questa salita ecco sì abbiamo visto che la tua vettura era particolarmente a posto ci hai regalato ogni tanto qualche momento di pennellate e ci siamo leggermente emozionati sì effettivamente pure mi sono emozionato perché nel primo tratto nella terza magica sono arrivato a due centimetri penso dalle gomme non so come ho fatto ma sono stato anche un po' fortunato forse ma quasi rischia purtroppo si rischia perché il tracciato è lungo e può succedere la qualsiasi cosa durante tutto il percorso purtroppo è così ma è sempre un piacere comunque guidare qui sul percorso dell'Eto e allora con questo rischio io vado a collegarmi al buon Enzo amoroso ciao Enzo buonasera buonasera ragazzi che praticamente rischiando un po' tanto ci ha lasciato il volante sulla pista allora praticamente diciamo diciamo di sì fortunatamente i miei piani sono andati a buon fine perché mi ero prefissato di fare le due manche di gara le prime due farle diciamo discretamente portare comunque a caso il risultato ci sono riuscito nella terza manche di gara ovviamente ho fatto il kamikaze l'ho tirata nel punto più maschio del percorso ovvero nelle due sinistre nel quale si vanno a schiantare tutti i veri uomini praticamente sì però ci si schianta con la panda solitamente perché i veri uomini si muoiono con la panda insomma lì se vai a vederti video della gara vera negli anni passati ragazzi in quel punto in quattro manche due di prova e due di gara nella gara vera c'era la certezza matematica che qualcuno andesse a picchiare nel muro come ho fatto io quindi ho portato a casa il risultato anche nello schianto quindi meglio di così non si poteva fare volevo ringraziare tutti gli amici di Muro Factor Live nell'occasione dell'amico Salvo Vantano che ha realizzato questo e ovviamente anche altri percorsi perché chi conosce bene questo percorso come me io ci ho vissuto tantissime edizioni della corsa dell'Etnavera è fatto veramente in maniera allucinante grazie quindi molto dettagliato è uguale uguale a quella vera ragazzi e quindi andando sempre a rimanere collegati con le ultime citazioni dei piloti appunto riguardo a Enzo che saluta il team Crono Factor Live parlaci un po' di questa Valentina Guglielmino che è stata citata in chat la Valentina Guglielmino praticamente credo che sia la moglie di Salvo Vantano che Salvo che Salvo costringe sotto Tortora scherzo 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 la moglie di Salvo praticamente che guida una bicilindrica credo che la vedremo in azione domani per la terza e ultima batteria quindi Valentina ma la domanda è chi è più veloce fra Salvo e la moglie ma onestamente questo non ve lo saprei dire perché non corrono nella stessa classe quando avranno il fegato di mettersi quando Salvo avrà il fegato chissà chi ha paura dei due esatto sicuramente lo verremo a sapere per il momento non vi posso rispondere speriamo di poterlo commentare allora in quel caso comunque Valentina si impegna tantissimo e voglio ricordare anche che qualche anno fa in un campionato con l'Ele Factor 1 ha corso con l'ECN 2005 quindi voglio dire non sarà velocissima però non beccartela nella tua classe Salvo infatti infatti me ne vado sempre in un'altra classe non si sa mai non si sa mai meglio evitare perché poi è così che iniziano le sfide ma anche perché nel caso in cui vinci tu poi le ritorsioni femminili le conosciamo tutti insomma ecco meglio evitare meglio meglio tralasciare questo questo piccolo anfratto di discorso andiamo invece così al volo su Michele Petrolo lui che a livello di prestazione è stato diciamo abbastanza di sostanza nel senso un safe dopo l'altro in tutte e tre le manche sì qualche errorino c'è stato ma ci può stare ma tutto sommato una prestazione che mi è sembrata essere positiva sì buonasera a tutti ciao Michele buonasera diciamo sì abbastanza positiva potevo fare di meglio perché rispetto ai tempi effettuati nelle prove c'è molto distacco però l'importante è divertirsi e l'importante è questo beh una tappa che questa è divertente perché così veloci tra queste viuzze ti diverti parecchio con queste macchine sì sì moltissimo di fatti non sembra ma in realtà è molto difficile perché non appena basta sbagliare solo un pochettino rischi di buttare via tutto perché essendoci moltissimi in rettilinei non appena esci piano perdi tutto quindi è molto molto difficile ecco questa è un po' una filosofia che volevo chiedere e ne approfitto per chiedertela a te Michele quando ci sono piste così veloci uno dice vabbè ma tieni giù il piede e vinci no si rischia di lasciare tanti decimi perché il margine di errore si restringe perché appunto andando a prendere la curva veloce che ovviamente va a caratterizzare quel tratto di pista prendendola veloce nel modo troppo lento lasci tanti decimi prendendola troppo veloce rischia di andare cioè vai contro il muro quindi ok il modo giusto per farla è nel centro però bisogna essere bravi a interpretarla nel centro si esattamente bisogna essere proprio in grado di riuscire a staccare nel modo corretto e riuscire ad uscire abbastanza veloce da poter affrontare un rettilineo con tutta la velocità possibile che dispone nella macchina ecco bene bene grazie mille Michele per la tua delucidazione e ovviamente questa poi diventa anche una mentalità una mentalità che Rocco questa sera le aiutami se sbaglio ha rappresentato sull'abitacolo con i suoi colori sempre rossoneri esatto e mi ha regalato la texture per il tatuaggio io lo ammetto mi ha preso la texture ciao ragazzi buonasera ciao Rocco buonasera buonasera anche a te saluto il cugino interista chi è dei due eh io è lui comunque è stata una una bella gara ovviamente come sempre io inizialmente ho sbagliato a non caricare il setup della vettura la prima mance sono andato proprio fuori la seconda e la terza poi certo non ho fatto del mio meglio ma sono arrivato alla fine si diciamo che la tua prestazione è stato un salire perché il manche 1 totalmente da dimenticare il manche 2 la vettura era totalmente piegata però comunque mi sembra che alla fine ci sia arrivato il manche 3 leggermente meglio dopo la cuffata di Ale che fa e per adesso non ha fatto errori poi qualche curva dopo la toccatina al muro come come sempre così è è male male mentre corri non ci devi ascoltare se non ti emozioni magari stai andando bene la prossima volta lo farò di sicuro e vi muterò per tutta la casa anche perché nel momento in cui c'è Ale non ascoltare d'accordo ragazzi d'accordo una buona serata a tutti grazie al team lo stavo dicendo salvo che è il creatore di questa pista meravigliosa va bene un ringraziamento va anche a te un ringraziamento ovviamente va anche a tutti i ragazzi del team Cronofactor Live Ale noi adesso andiamo in giro ecco 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 sentivo all'improvviso un ritorno incredibile niente allora per la prossima settimana abbiamo molti appuntamenti quasi ogni giorno il primo sarà se ricordo bene martedì quindi per domani sera nessuna diretta il nostro Daniel correrà tra l'altro magari quindi se volete lo potete seguire ma noi come Grand Prix TV torniamo martedì esatto noi torneremo martedì con una diretta poi mercoledì addirittura due giovedì una venerdì due sabato due quindi siamo abbastanza pieni noi ovviamente le dirette per chi ci avesse seguito oggi pomeriggio con le SRO le abbiamo elencate ma per questa sera vi lasciamo all'abbonati all'iscriviti al canale Instagram pagina Facebook canale YouTube Twitch c'è chi piene a piene metta per non perdervi nessun aggiornamento Ale grazie mille per essere stato qua con me questa sera e per esserti preso questo giorno quasi intero di malattia grazie a te grazie a tutti quelli che ci hanno seguito ma ti mancava in chat tu dicevi no no ci sono io faccio io io no Ale non ti preoccupare ci sono io faccio io tu no 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 va bene se proprio vuoi non è un problema detto questo salutiamo tutta la chat dal vostro Daniel Montinari a tutto ragazzi noi ci vediamo alla prossima ricordatevi sempre stay tuned